informati bene scegli la padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online lapadania.net nella puntata odierna di prima nord cultura perletta al nord non esiste ecco che cos'è la cultura perletta 8 milioni e 400 mila euro a firenze 5 milioni all'anno al museo maxi di roma 3 milioni per altri musei romani 75 milioni di euro per risanare i debiti 110 milioni per cinema e fiction 1,3 milioni a 103 fondazioni e il nord per il governo non esiste prima abbiamo sentito dal ministro l'importanza di questo decreto e di questa legge e questa invece è una legge che pare mettere tutti i soldi sui funzionari sulla burocrazia che appesantisce ancora una volta le strutture che dovrebbero invece valorizzare noi siamo assolutamente contrari e presentiamo questo emendamento e da ultimo mi sia consentito anche un'osservazione qualche giorno fa furono nominati quattro senatori a vita per altissimi meriti nel campo sociale culturale scientifico avrei tanto voluto avere il conforto della loro opinione in questa discussione per togliere anche al paese il dubbio che non siano stati eletti o nominati dal presidente della repubblica solo per i voti di fiducia al governo qui si parla di cultura dove sono questi nostri colleghi a vita siamo in italia dove il turismo i turisti che vengono in italia vengono soprattutto per le nostre bellezze archeologiche monumentali di conseguenza il fatto di inserirlo in questo ministero doveva essere il rilancio di forse di quella che è la più importante iniziativa la più importante macchina economica del paese a nostro avviso confortati anche da autorevoli commentatori quindi non siamo solo noi a dirlo del settore non possiamo non temere la riproposizione di vecchie situazioni del passato dove a fronte di grandi investimenti organizzativi e gestionali ha fatto sempre riscontro un'assordante carenza di risultati ed è sotto gli occhi di tutti pur propagandando nel titolo del decreto non c'è traccia di alcuna disposizione o finanziamento che riguardi il turismo ancora una volta non si fa nulla non si fa nulla o poco per la cultura e per il turismo grazie soldi riperite con la cisa a dir poco bislacche e non proprio originali ubriacarsi costerà una fortuna però farà cultura nessun o pochi euro per i beni culturali del nord e questo non è una buona cosa signor presidente è una discriminazione di cui avremmo fatto volentieri a meno informati bene scegli la padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online la padania punto net non 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 Grazie a tutti.